Ciao a tutte e ciao a tutti! Nel video di oggi proveremo a rispondere a questa domanda. Si può fare il grafico o la grafica professionista con la suite Affinity? Perché porsi questa domanda? Per chi di voi conosce un pochino il mondo della grafica o per chi ha accarezzato l'idea di fare il grafico o la grafica professionista, saprete che i programmi utilizzati in questo ambito a livello professionale sono i programmi della suite Adobe, che sono Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Adobe InDesign. In realtà Adobe ha altre 47 programmi ma che non staremo a vedere qui perché in realtà i tre programmi principali effettivamente per fare la professione di grafico o di grafica sono questi tre che vi ho appena citato. Adobe diciamo è lo standard. Adobe per anni e anni ha avuto il monopolio. fino a poco tempo fa era impensabile poter fare il grafico o la grafica professionisti senza avere la suite Adobe, senza utilizzare la suite Adobe perché anche se esistevano altri programmi di grafica, diciamo programmi con tutte quelle funzionalità che ti permettevano di fare tutte le cose che ti faceva fare la suite Adobe, fondamentalmente non esistevano. poi però è arrivato Affinity che fin da subito si è posizionato secondo me come un competitor estremamente credibile di Adobe. Adobe, i programmi Adobe sono degli ottimi programmi, sono i programmi su cui io ho imparato a fare la grafica, ho studiato su quelli, sicuramente diciamo che non ho niente da ridire sui programmi di Adobe, nonostante secondo me abbiano anche loro alcuni limiti, i programmi Adobe però hanno questo grosso problema, e cioè che costano tantissimo l'abbonamento per tutti i programmi della suite in realtà, poi una volta che si paga questo abbonamento si ha accesso a tutti i loro programmi, però questo abbonamento costa 60 euro al mese. In realtà 60 euro al mese non sono così tanti se quella del grafico è la nostra professione, se è diciamo la fonte che ci dà uno stipendio, 60 euro al mese sono una cifra più che accettabile da spendere, soprattutto se magari come me riuscite a tagliare su altri costi, ad esempio io non pago l'affitto di uno studio perché lavoro da casa, e quindi in realtà pagare 60 euro al mese per accedere alla suite Adobe non è qualcosa che mi pesa così tanto. Questo invece, diciamo che questi costi possono essere un problema ad esempio se state studiando, Adobe fa dei prezzi scontati per gli studenti, però in genere dovete essere iscritti a qualche scuola per avere questo tipo di sconto, e anche scontata la suite costa tra le 20 e le 30 euro al mese, che comunque non sono pochissime se effettivamente con questi programmi non ci lavorate. Dicevo però che ad oggi ancora, ma soprattutto in passato, ma ad oggi ancora, sembra abbastanza impensabile poter fare il grafico, la grafica professionista senza avere i programmi di Adobe. Da un po' di tempo io ho scoperto invece la suite Affinity, che comprende i programmi Affinity Designer, Affinity Photo e Affinity Publisher. Di Affinity Designer ho fatto tantissimi tutorial su questo canale, se mi seguite lo sapete, e ho iniziato ora a fare molti tutorial anche su Affinity Photo. Devo dirvi la verità, da quando io ho iniziato a utilizzare Affinity Designer, ho iniziato prima con un cliente, e ora fondamentalmente è il mio programma di reazione, Affinity Designer soprattutto, ed è quello che io uso con tutti i miei clienti. Quindi la mia risposta è che sì, si può assolutamente fare grafici o grafiche professionisti utilizzando la suite Affinity. Poi a seconda di quale tipo di grafico siete, utilizzerete più un programma piuttosto che un altro. Io utilizzo quasi esclusivamente Affinity Designer per il mio lavoro, e da quando utilizzo Affinity Designer io ho completamente abbandonato Adobe Illustrator. Io continuo a pagare la suite Adobe, ho i programmi Adobe installati sul mio computer, e ci sono alcuni casi in cui ancora la utilizzo, perché effettivamente per quanto io trovi fantastica la suite Affinity, ci sono ancora delle funzionalità che ha Adobe, che mancano ad Affinity, per cui io diciamo mi rivolgo a Illustrator quando ne ho bisogno, ma questo capita estremamente di lado. L'enorme vantaggio della suite Affinity rispetto ad Adobe è il costo, perché Affinity costa, mi sembra una cinquantina di euro, 53-54 ora non ricordo perché comunque un po' che l'ho comprata, e si paga una volta sola, basta, cioè ogni programma che si acquista si paga una volta sola, e poi non si deve pagare più. Probabilmente quando faranno una major release, allora richiederanno, diciamo, richiederanno nuovamente di pagare, ma io ormai sono, credo più di due anni forse, che ho i diversi programmi della suite Affinity, li ho pagati una volta, tra l'altro li ho pagati in sconto, perché poi loro durante il Black Friday, o a volte a primavera fanno delle scontistiche, quindi io li ho anche pagati molto meno, mi pare una trentina di euro, e da quel momento io non ho più dovuto pagare niente. Come vi dicevo però, io continuo ad avere Adobe, lo continuo a pagare, eppure io non lo uso praticamente, cioè da quando io ho Affinity, io Adobe non lo tocco quasi più. E perché non lo tocco quasi più Adobe? Perché preferisco di gran lunga Designer, io con Affinity Designer mi trovo molto meglio. Secondo me è un programma che è molto più user-friendly, è molto più facile da utilizzare, ha un'interfaccia molto più gradevole, e non solo, è anche un programma molto più leggero. Cioè se io vado ad avviare Affinity Designer, o vado ad avviare Adobe Illustrator, Illustrator ci mette un'eternità anche solo ad aprirsi, mentre Designer è molto più veloce perché è un programma molto più snello. E secondo me questo è un grosso problema comunque di tutti i programmi della suite Adobe, che sono dei programmi che sono estremamente macchinosi, non solo da utilizzare, ma sono anche molto pesanti. Mentre secondo me il vantaggio dei programmi della suite Affinity è che sono molto più facili da capire, e molto più facili da utilizzare da parte di un'utenza che ha anche meno esperienza. Quindi per esempio da professionista io ho cominciato a utilizzare Designer perché mi è molto utile ad esempio poter dare poi ai miei clienti dei file che sono realizzati con Designer, con i clienti con cui ci riesco io li invito a comprarsi Designer e a tenersene una copia sul loro computer, perché grazie a questo ci sono delle modifiche, delle cose che riescono a fare anche loro, non solo in maniera molto più facile rispetto a quella con cui potrebbero fare con Adobe Illustrator, ma anche spendendo molto meno. Io ad esempio se ho un bisogno che un cliente abbia il mio stesso programma, è molto più facile convincerlo magari a investire 30-50 euro in Affinity Designer, piuttosto che convincerlo a spendere 60 euro al mese per un programma che mi serve ogni tanto. Quindi in realtà secondo me tutta la suite Affinity ha questo enorme vantaggio. Per quanto mi riguarda quindi vi dico che sì, secondo me si può assolutamente fare non solo grafiche professionali con la suite Affinity, ma si può anche fare i grafici professionisti, perché è quello che faccio io. Io sono una graphic designer con una partita IVA, lavoro da due anni e io tutte le grafiche dei miei clienti ormai le faccio solamente con Affinity Designer e quindi per la mia esperienza è una cosa che può essere assolutamente fatta. Ci sono però dei casi in cui dovete per forza avere la suite Adobe. Ad esempio se siete dei grafici dipendenti o se siete dei grafici freelance che lavorano però su commissione per agenzie, perché al 110% le agenzie di comunicazione, i loro file li vorranno nel formato .ai, che è il formato di Illustrator, oppure nel formato .psd, che è quello di Photoshop e così via, perché tutte le agenzie di comunicazione, tutti quanti utilizzano i programmi della suite Adobe. Non solo, anche ad esempio se siete grafici freelance, però lavorate in team con altre persone, almeno che appunto poi le persone del team non le comincete a passare anche loro alla suite Affinity, dovrete per forza utilizzare la suite Adobe. Un altro piccolo limite che potreste riscontrare con Affinity è che ad esempio ci sono alcuni siti dove noi possiamo far stampare i nostri prodotti, per esempio dove possiamo far stampare dei biglietti da visita o dei volantini, che molto spesso ci forniscono già un template, cioè una base su cui realizzare la nostra grafica. Nell'esempio del volantino noi scarichiamo spesso un file, che poi è un file Illustrator, dove ci sono già le dimensioni del volantino, dove sono già indicati i margini e quindi diciamo c'è questo vantaggio, che su molti siti di stampa noi troviamo dei file per Illustrator già pronti, mentre in genere questo non succede con Affinity, non ci sono degli stampatori, almeno quelli che conosco io, che ti forniscono del template per Affinity Designer. Però io ad esempio in questo caso me lo costruisco io e poi io questi template me li tengo, perché in realtà è una cosa abbastanza facile da fare, soprattutto se siete dei grafici o delle grafiche professioniste. Ci sono ancora oggi, e parlo più per Illustrator e Designer, perché in realtà Photoshop e foto li so paragonare di meno, perché entrambi sono programmi che utilizzo molto poco, ma perché non lavoro io così tanto sul fotomontaggio, diciamo, ma lavoro più sulla progettazione grafica. Comunque ci sono effettivamente ancora strumenti che troviamo su Adobe e che su Affinity non sono presenti, però secondo me intanto sono strumenti che magari ci facilitano e velocizzano il lavoro, ma tutto quello che è possibile fare con Illustrator è praticamente possibile farlo con Designer. Nonostante con questo mio video io vi abbia appena detto che si può assolutamente fare i grafici di professione utilizzando solo la suite Affinity e non quella Adobe, io comunque continuo ad avere la suite Adobe. In realtà secondo me lo faccio anche più per una ragione psicologica, perché effettivamente dopo anni di formazione, dopo che chiunque ovunque mi ha detto che il grafico di professione può essere fatto solo con Adobe, forse anche psicologicamente faccio fatica a liberarmene del tutto, ma poi la verità è che nonostante ormai non mi capiti più e probabilmente forse non mi capiterà mai più, non posso, diciamo, ricevere, che ne so, un file di Photoshop e non poterlo aprire perché non ho Photoshop. Ecco, forse farebbe un po' ridere le persone con cui collaboro se mi inviassero un file creato con uno dei programmi della suite Adobe e io non potessi aprirlo. In realtà è vero, e qui lo voglio specificare, che con la suite Affinity si possono utilizzare, cioè si possono aprire file fatti con Adobe, però poi la verità è che ci sono un sacco di cose da aggiustare. Ad esempio una cosa che non potete assolutamente fare, io non posso lavorare su un file di Photoshop, poi te lo mando, tu lo apri con Affinity Photo, ci lavori, poi me lo rimandi. Cioè, sì, è vero che con Affinity Photo si possono aprire i file di Photoshop, però poi la verità è che vi trovate un po' di cose scombinate, non sono compatibili al 100%, quindi è una cosa che io vi sconsiglio assolutamente di fare. Un altro motivo per cui io in realtà trovo molto comodo continuare ad avere la suite Adobe, che potrebbe sembrare una stupidaggine, però quando ti fai grafici di professione è una cosa che può essere molto rilevante, e sono i font di Adobe, perché con l'abbonamento di Adobe sono compresi anche tutta una loro vastissima libreria di font, che in realtà questi font possono essere utilizzati anche con altri programmi. Chi fa il grafico o la grafica di professione sa che le licenze dei font costano tantissimo, quindi in realtà avere questa libreria molto vasta di font molto professionali, che io però posso utilizzare anche su Affinity Designer, per me ad esempio è una cosa estremamente comoda. Ricapitolando, se volete fare i grafici di professione, potete farlo assolutamente con la suite Affinity, anche se ancora oggi forse vi consiglio di imparare ad utilizzare la suite Adobe, ma se non altro perché se fate questo di lavoro più programmi sapete maneggiare, meglio è per voi perché potete districarvi in tutte le situazioni possibili. Se invece non siete dei grafici o delle grafiche, ma vi serve avere delle grafiche fatte a livello professionale, siete molto bravi o bravi a fare queste grafiche, potete assolutamente fare a meno di Adobe e vi consiglio di lanciarvi nella suite Affinity, imparare ad utilizzarla bene e vedrete che otterrete dei risultati assolutamente ottimali e professionali anche con la suite di Affinity. Spero che questo video vi sia stato utile, ci sentiamo al prossimo, ciao!